Buonasera e benvenuti a questa serata dedicata ai bambini del profanotrofio di Betremme. Siamo la compagnia niente per caso e stasera staremo insieme con una comicità semplice, leggera, con il solo scopo di passare qualche ora in maniera spensierata insieme a voi. Lo spettacolo, il titolo dello spettacolo l'avete letto, pillole di umorismo, per cui stasera non si parlerà di tamponi, non si parlerà di vaccinazioni, iniezioni ed altro. Stasera avremo una terapia diversa. Siamo fermi come tutti, 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 ormai da due anni. Questa cosa è stata molto, molto, molto pesante. Di solito quando si recita in un teatro, la prima cosa che si raccomanda è, prima di iniziare lo spettacolo, mi raccomando, silenzio. E mi raccomando, spegnete i cellulari. Ebbene, stiamo all'aperto e quindi ci siamo adeguati. Vi dirò silenzio, ve lo anticiperò con un fischio. Tante perché mi sono attrezzato come un vigile urbano, quindi sentirete questo fischio. Grazie. 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 Salvatore Sebastiano Franco Di Fraia E' il nostro regista Peppe Di Fraia Vi ringrazio, questo spettacolo è stato realizzato, è stato offerto in pochissimi giorni ed è stata una bellissima esperienza quindi vi voglio raccomandare solo una cosa, se lo spettacolo è stato di vostro gradimento ditelo a tutti perché abbiamo intenzione di replicarlo se lo spettacolo non è stato di vostro gradimento Buonasera a tutti e grazie Vai con la musica Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.